Stadio San Paolo Amsic lo vede, Maggio nel corridoio, in mezzo Cavani, il cross mezzo, Cavani! L'uomo dei sogni, Harrison Cavani, fa 18 in campionato! Grandissima azione, bellissima la ripartenza, bel filtrante di Amsic, tutto perfetto con Cavani che attacca il primo palo. C'è spazio per Santon, va a chiudere Gargano, ancora Santon, mette il palone in mezzo per Imenez, ha provato a farla scorrere, Bogdani, Imenez! Fuori gioco! Con il tacco serve subito Imenez che è in fuorigioco. L'aggancio di Lavezzi al limite, c'è l'inserimento di Zuniga, Zuniga! Zuniga, il cross in mezzo, arriva Maggio! La palla non è entrata! Guarda qui, guarda, 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 è dentro di un metro. Lavezzi dentro, Mascara di testa, poi Aronica, l'uscita di Antonioli, ancora Aronica, cerca il palleggio, la rimette in mezzo, la palla resta lì, Maggio! La tocca sul fondo. Palla regalata però al Cesena con Imenz che mette il pallone in mezzo, Bogdani! Cavani per Mascara dentro, il cross in mezzo, Sosa! Il gol della sicurezza, lo firma Sosa, il suo primo con la maglia del Napoli, è il Napoli, l'anti-Milan! E qui, buona la giocata, bellissimo l'inserimento di Mascara e per la gioia, insomma, anche della società, per la scelta fatta con Sosa. Finisce qui, 2-0 per il Napoli che torna a vincere dopo la sconfitta con il Chievo.